Ciao ragazzi, bentornati sul canale e bentornati su World of Warships Come sempre prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto Se volete provare il gioco completamente gratuito, il link è in descrizione Link che vi darà accesso a due navi premium L'incrociatore Diana di livello 2 sovietico La corazzata inglese di livello 6 Warspite Più una serie di vantaggi Per ricevere suddetti vantaggi basterà semplicemente giocare Se qualcuno fosse interessato alle mie live streaming Mi trova quotidianamente live sul mio canale Mixer Link in descrizione Lì troverete calendario, orari dei giochi, giochi trattati eccetera eccetera Oggi siamo nelle Clan Wars Siamo in compagnia di Nico, Barbarossa, Kovasky, Yoj, Richard, Lix Una parte dei miei compagni di clan 7 contro 7 la modalità che dobbiamo affrontare Siamo nella mappa lacrime del deserto Supremazia la modalità, anzi il numero è 7 contro 7 Modalità supremazia Siamo con la squadra Bravo come potete ben notare La squadra Alpha è già salita di Lega Poi ci tengo subito ad aprire una parentesi molto importante Per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda Noi non ci danniamo l'anima Nel senso che non vogliamo per forza salire assolutamente di Lega Se il risultato arriva Tanto di guadagnato perché comunque otteniamo l'acciaio, le bandiere E tutto quello che consente la competizione di ottenere Altrimenti comunque l'obiettivo principale rimane di aiutare tutti coloro i quali siano interessati Per l'appunto a queste clan wars e che sono dentro il clan RN Quindi per questo motivo tra l'altro abbiamo due squadre Riusciamo a startarle inoltre due Quindi Alpha e Bravo Se Alpha va più avanti Se Bravo dovesse rimanere più indietro I giocatori da Bravo poi vengono su Alpha Per prendere le ricompense o viceversa Questo è un po' lo spirito che ci accomuna Allora detta questa cosa molto importante Siamo con l'incrociatore di livello 10 Giapponese Zao All'inizio utilizzavo nelle altre partite che vi ho fatto vedere La corazzata Gurfust Sono tornato un po' alle origini Quindi il mio incrociatore preferito torna in azione Molto importante Voi direte perché utilizzi l'aereo Fighter? Semplicemente perché mi va di utilizzarlo Non serve a niente Quello che vedete è semplicemente un gesto scaramantico I miei compagni di clan lo sanno perfettamente C'è anche una storia dietro Non sto qui a raccontarla Andiamo ad utilizzare il fumo Che il nostro alleato Yoi sta utilizzando davanti a noi Fumo del Venezia Attenzione Dobbiamo cercare di rimanere in scia Per rimanere appunto coperti Qualora dovesse fallire la copertura Ecco questa può essere una delle situazioni In cui ci potremo trovare Comunque una bella virata dovrebbe darci una mano Non la facciamo in tempo Ci prendiamo colpi su colpi Uno perché il Kremlin ci becca E ci fa davvero molto male E poi perché la Hindenburg esce dal nulla Dall'uovo di Pasqua Troviamo una Hindenburg Quindi perdiamo in due minuti netti La bellezza di circa 30.000 punti Per la nostra felicità Abbiamo fatto 17.000 Quasi 18.000 Sull'incrociatore Sovietico Nemico Quindi anche lui non se l'è passata benissimo Un piccolo errore in questa circostanza Perché non sono riuscito a sfruttare bene La scia del mio compagno Yoi Per il fumo che ha dato il Venezia È una tattica che stiamo utilizzando spesso e volentieri E che è andata sempre bene Fino a questo momento Quindi non so cosa dirvi Il Venezia è leggermente più veloce rispetto alla mia Zao Però il fumo che si lascia dietro Comunque sia dovrebbe bastare a darmi la copertura Di cui necessita la mia nave Almeno per rimanere invisibile E continuare a sparare le HE Vedete che qui io comunque non mi prendo paura di sparare Anche se ho poca vita Comunque provo a sparare il Moskva Il Kremlin non ha una gittata molto elevata La Hindenburg dovrebbe avere l'isolotto come copertura E quindi non mi può sparare Vedete che lui qui prova a spararmi ancora una volta Vediamo se in qualche modo riusciamo esattamente ad evitare i colpi Arriva una buona kill da parte di Nico Che nel frattempo ovviamente stava controllando il tutto Dall'altra parte della mappa E quindi riesce a beccare la Hindenburg Quando avete una nave di vantaggio Ovviamente cercate di sfruttarla Un'altra cosa molto importante Sono diverse le cose che devo dire Quindi spero di ricordarmene tutte quante Noi ci siamo divisi 3 e 4 Nel senso 3 navi sul settore di Alpha E 4 navi sul settore di Bravo Charlie Può essere che il nemico vada a mandare 4 navi su Alpha E 3 navi su Charlie Bravo questa cosa noi non possiamo saperla E non possiamo sapere neanche dove si troverà la corazzata nemica Corazzata nemica che ovviamente è in vantaggio rispetto Diciamo alla potenza delle nostre navi Mi spiego Se il Kremlin dovesse beccarci Sicuramente ci farebbe molto male con le AP Potremmo subire un colpo devastante Essendo degli incrociatori Detto questo Molto dipende da come si mettono in acqua i nemici E da come sappiamo noi Diciamo Gestire La loro posizione Perché se noi avessimo incontrato 4 navi Ovviamente avremmo dovuto adottare una tattica differente Probabilmente staremo indietreggiando Anziché avanzando Comunque Lo Zao si rivela Ancora una volta una nave che mi piace tantissimo E' una nave che può fare diversi ruoli Come vedete qui noi ci stiamo avvicinando silenziosamente Veniamo spottati a 9,90 Ovviamente è uno spotting che dobbiamo in qualche modo utilizzare Vi ricordo che abbiamo siluri che arrivano fino a 12 km In altre partite Dovremo Parlo per quanto la Zao Sacrificarci e sparare e attirare il fuoco sulla nostra nave Perché ovviamente è una nave che può farlo e deve farlo In modo tale da allentare la pressione sui nostri alleati Anche se la nave subisce dei colpi può rimanere operativa per quanto riguarda i siluri Noi abbiamo perso 30.000 punti nel giro di 2 minuti Però non ci siamo demoralizzati E come vedete Stiamo continuando a giocare Finchè la nave rimane operativa E' un pensiero in più per i vostri nemici Siluri in acqua Siluri che vi ricordo sono devastanti Quasi 24.000 danni Per siluro Ne lanciamo 10 alla volta Fate un po' di conti Attenzione Siamo a 28.000 danni Però io penso che quella Hindenburg Si vada a mangiare come minimo un siluro Due siluri E con due siluri non c'è modo di Di sopravvivere praticamente a niente Abbiamo fatto una buona kill Però è una kill che Non è perché io ho lanciato i siluri Perché comunque è sempre la squadra Che mette nelle condizioni I singoli giocatori di fare la kill Quindi è un ringraziamento che Ok io ho fatto la kill Ma dietro c'è il lavoro di tutta la squadra Questo è un concetto molto chiaro Da ripetere tante volte Detto ciò Il comandante speciale Io lo porto Ma non funziona Per quanto riguarda le clan battles Quindi il comandante speciale tedesco Il comandante speciale sovietico Il comandante speciale americano O giapponese Non attiveranno i propri talenti Quindi io lo porto Perché ovviamente ce l'ho al massimo Ma non serve assolutamente a nulla Se non perché ha Praticamente Le 19 skill messe Andiamo a dare ancora un po' di fastidio Al kremlin Qui vedete che siamo veramente al limite Con La giocata Abbiamo anche raggiunto quasi il limite Della mappa qui Cerco di andare invisibile Anche perché contavo i secondi Diciamo suoi Tra il suo sparo E il mio andare invisibile Mi va a beccare con un singolo cannone Un singolo proiettile E mi va a fare 6.000 Per il discorso che ho fatto precedentemente Bisogna fare molta attenzione La squadra sta sfondando In maniera molto efficace Il settore di Charlie Qui io non ho più possibilità di manovra Non posso fare veramente più nulla Potrei fare una virata secca a destra Ma veramente Andiamo a subire dei danni molto pesanti Rimane solo il kremlin Da dover distruggere Nuovi siluri per mettere ancora più difficoltà Vediamo se la Zao riesce a resistere Eccezionale la Zao Che non viene distrutta Da nessun colpo del kremlin Siamo oltre 100.000 punti Bravi tutti quanti Questo è lo spirito di squadra Che mi piace Che ci piace Ragazzi Andiamo a vedere a breve I risultati posto scontro Per capire Ancora una volta Riusciamo a sopravvivere Vabbè La Zao è praticamente immortale Un altro incendio a bordo Della nave nemica Risultati posto scontro Per quanto possano valere No bugia Non ci sono i risultati posto scontro Ragazzi Video terminato Io come sempre vi ringrazio Per i like, i commenti E le visualizzazioni Noi ci vediamo alla prossima Un finale eccezionale Alla Devi Fantastico Ciao